Ciao a tutti, sono Camilla Portigliotti, laureata magistrale in Ingegneria Gestionale percorso Manufacturing Strategy e volevo raccontare una delle esperienze più belle qui alla Liuk, che è stato il New Erasmus in Svezia. È stata un'esperienza fantastica perché mi ha permesso di crescere sia dal punto di vista accademico, quindi frequentare corsi, laboratori, fare progetti con persone da tutto il mondo, e anche dal punto di vista personale, perché è comunque un'esperienza che ti mette alla prova in un contesto completamente diverso, fuori dalla propria comfort zone, quindi è sicuramente un'esperienza che ricorderò e che consiglio a chiunque, soprattutto perché la Liuk ti consente di fare questo percorso, essere sempre seguiti e non essere mai da soli, per cui è stata un'esperienza da ricordare. Grazie.